Grazie mille, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per l'invito al Festival della Filosofia, alla Fondazione di Modena e veramente grazie anche proprio caloroso perché come dicevo prima al Presidente, qui io parlerò nella mia lecture un po' del modello barcellona di democrazia sui dati, di una partecipazione dei cittadini e della possibilità di ridare il potere alle persone rispetto al futuro tecnologico che ci attende e credo che sia anche un po' il modello Modena, quindi in realtà sono qui anche proprio a studiare quello che secondo me è effettivamente la messa in pratica di tutta una serie di possibilità che fanno appunto di Modena secondo me un modello dell'innovazione democratica e sostenibile, quindi grazie veramente per l'invito e grazie a voi perché credo che alle tre di pomeriggio con questo sole sia comunque abbastanza difficile ascoltare un'esposizione. Innanzitutto vorrei dire che credo che questo festival, o almeno per me questo festival in questa edizione, è speciale per due motivi fondamentali. Il primo innanzitutto essendo in memoria di Remo Bodei che è un pensatore che ha contribuito moltissimo, io purtroppo l'ho conosciuto poco dal vivo ma soprattutto con chiaramente con il suo ultimo scritto, Destine sotto missione, ha contribuito moltissimo anche a plasmare, a formare alcune idee che hanno un po' guidato il mio lavoro nella pratica e quindi questo è motivo di ulteriore importanza di questa edizione del festival e il secondo motivo credo sia legato invece alla situazione in cui siamo, quindi siamo in una profonda crisi, in qualche modo il capitalismo dopo la pandemia si trova ad affrontare una triplice crisi strutturale che è una crisi di salute pubblica chiaramente che poi ha portato e sta portando ad una crisi economica e una crisi finanziaria di cui stiamo ancora calcolando l'impatto e in cui dobbiamo ancora capire come toccherà le nostre vite e chiaramente una crisi climatica che mai prima d'ora ci siamo resi conto come sia tra l'altro interconnessa alla biodiversità, alle nostre vite, alla qualità delle nostre vite e quindi anche alla giustizia sociale e vediamo un aumento delle disuguaglianze molto forti e io credo che in questi momenti ci dobbiamo un po' tutti rendere conto che lo status quo non è più un'opzione e siamo tutti chiamati e ci tengo diciamo un po' a sottolinearlo perché credo che momenti del genere, festival del genere che interrogano scienziati, filosofi, politici, cittadini stessi, artisti in maniera multidisciplinare su come usciamo da questo momento di crisi e quali sono in qualche modo le prospettive del futuro. Secondo me in questi momenti e quindi anche in questo tipo di eventi si può effettivamente dar vita ad una direzione per il futuro in cui stiamo andando che può in qualche modo stimolare e alimentare l'immaginazione sociale e quindi sembra un po' banale dirlo ma in realtà è vero che le crisi, le pandemie, le guerre eccetera a volte possono stimolare questo salto di immaginazione sociale che secondo me noi abbiamo estremamente bisogno per pensare un po' il futuro e quindi mi sento di dire che in questa cornice diciamo il mio intervento chiaramente non sarà tanto una riflessione teorica quindi ascolterete più diciamo filosofi di natura più teorica ma un contributo diciamo per costruire un programma di cambiamento pratico e quindi diciamo ripoliticizzando il senso della tecnologia cercare di portare la tecnologia di darle vita quindi di portarla nell'esperienza che ne facciamo in tutti i giorni e quindi prende spunto come è stato citato dalla mia esperienza io sono stata quattro anni e mezzo assessore a Barcellona assessore alle tecnologie all'innovazione abbastanza inedito perché io sono romana effettivamente ed ero l'unica italiana chiaramente in un governo catalano che poi insomma con una diciamo forte anche spinta autonomista e unica straniera nel governo ma anche proprio in generale a livello spagnolo e ho portato avanti un programma in cui ho applicato le idee che vi esporrò nella città di Barcellona e quando ho finito la mia esperienza come assessore sono stata chiamata dalle Nazioni Unite dall'ONU come ambasciatrice del programma sulle città digitali e la democrazia digitale i diritti digitali e quindi ho tentato in qualche modo di diffondere l'esperimento Barcellona e l'esperienza che ha fatto Barcellona su scala globale lavorando con altre città anche del sud globale quindi anche in Asia in Latin America in Africa oltre che città come New York Helsinki Madrid eccetera proprio per mettere in campo una rete di città che sperimentassero questi progetti e diciamo a mio avviso è molto importante questo tema ovvero abbiamo bisogno di un nuovo pensiero sulla tecnologia perché la concezione che noi tutti abbiamo del nostro futuro tecnologico conta nel presente e questo va sottolineato perché perché ci troviamo di fronte troppo spesso a delle idee estremamente determinate o deterministiche del futuro tecnologico e noi abbiamo delle idee molto forti su quello che ci può aspettare nel futuro con la tecnologia ad esempio molti di noi pensano che saremmo sostituiti dalle macchine con l'automazione industriale e che perderemo il lavoro oppure che dobbiamo adattarci e riformarci in questo nuovo mondo per trovare uno spazio nella società io credo che questa non debba essere la risposta perché invece per avere una scelta reale rispetto all'influenza che le tecnologie hanno sulla società dobbiamo presumere che l'evoluzione tecnologica non sia determinata ma che possiamo sviluppare delle tecnologie che siano radicalmente diverse e quindi anche dei modelli politici, economici e sociali che siano diversi da quelli che ci vengono proposti e insisto su questo punto perché il soluzionismo e il determinismo tecnologico bloccano l'immaginazione sociale su dei possibili alternative, il possibile sviluppo di alternative e purtroppo il determinismo tecnologico è onnipresente nel mondo della tecnologia ad esempio a Silicon Valley che è un po' il posto dove molte delle invenzioni di quello che usiamo, applicazioni, sistemi tecnologici sono state inventate e quindi quando noi vediamo questi cambiamenti in arrivo ci si chiede sempre bisogna modificarci anticipiamo questi cambiamenti però mai resistere o cambiare le cose e questo è un'attitudine che a mio avviso dobbiamo modificare ed è anche il motivo per cui molte di queste grosse aziende tecnologiche si dotano di questo ruolo dei futurologi perché in realtà sono persone che prevedono il futuro in maniera lineare e poi spiegano a tutti noi qual è la narrazione per cui noi dobbiamo adattarci bene io credo che non dobbiamo cedere a questa propaganda deterministica sulla tecnologia né di Silicon Valley piuttosto che di altri e dobbiamo sapere interpretare qual è questo potere tecnologico qual è la forma, la questione del potere, chi lo detiene oggi, con quale legittimità, quali fini con quali fini e capire come il potere sta mutando nello scenario diciamo dell'era digitale e ci sono varie questioni ad esempio l'eccessiva sorveglianza della tecnologia nella vita di tutti i giorni questo l'abbiamo visto anche con le narrazioni che ci hanno presentato Eder Snowden piuttosto che Julian Assange per cui oggi siamo più coscienti del fatto che la tecnologia in qualche modo può sorvegliarci ci può essere un'intrusività o dello Stato o delle imprese nei comportamenti sociali oppure diciamo siamo preoccupati per il potenziale uso e abuso ad esempio dell'intelligenza artificiale che diventa sempre più pervasiva o comunque anche delle opportunità che queste tecnologie offrono se riusciamo a dare più potere ai lavoratori, alle persone, alle città e abbiamo anche delle visioni molto distopiche che ci propongono del futuro come ad esempio il progetto di Elon Musk Neuralink non so se ne avete mai sentito parlare che è una specie di teatro della neuroscienza per cui il suo progetto è di renderci superumani collegando i computer al cervello inserendoci dei microchip nel cervello e nella sua visione anche l'istruzione di cui parlava prima il presidente con una visione invece assolutamente illuminata e umanistica del futuro dell'educazione e della tecnologia invece la sua visione è che anche l'istruzione sarà sostituita da un apparato di microchip cerebrale e quindi questo mina diciamo alla radice l'idea dell'umanesimo illuminista perché i microchip secondo la visione di Elon Musk invece della ragione devono mediare fra la mente umana e la comprensione del mondo e quindi diciamo questa è una delle visioni molto forti cioè il transumanismo che è poi proposto da persone molto ricche come Elon Musk o come Jeff Bezos che è il fondatore di Amazon che sono miliardari per cui i limiti del superamento dell'esperienza umana ad esempio la ricerca della vita eterna per cui abbiamo il futurologo di Google che ci dice che diventeremo in qualche modo immortali e il superamento dei limiti della vita umana implica anche il mercato infinito e questo è una citazione di una persona che se non conoscete quando si parla di tecnologia dovete conoscere che è Peter Thiel che è uno dei guru libertari adesso uno degli advisor di Trump sul futuro della tecnologia il fondatore di Palantir, il fondatore di Paypal, uno dei primi investitori di Facebook che dice che sempre di più la libertà e la democrazia sono inconciliabili e chiaramente lui per libertà si riferisce alla libertà delle multinazionali del mercato illimitato di fare un po' quello che vogliono senza porre un limite che poi sarebbe il limite democratico diciamo della regolazione di forme di potere molto forti a mio avviso però ci sono dei motivi ancora più sostanziali per cui bisogna capire che tipo di potere tecnologico ci troviamo di fronte e uno di queste sono le famose, no? l'economia delle piattaforme, ora la vediamo diciamo in tutti i giorni che sono nuove istituzioni algoritmiche che mediano la nostra vita sono degli intermediari sempre più pervasivi che rimodellano la politica rimodellano l'economia, rimodellano i media, anche i modelli del lavoro e sempre di più acquisiscono il potere ad esempio di cambiare i contratti delle persone di definire nuove regolazioni di vario tipo e quindi mettono in difficoltà sia i governi che le città che ad esempio i sindacati a negoziare un patto diciamo di mediazione con quelle che sono delle vere e proprie nuove istituzioni e quindi diciamo vediamo ad esempio c'è un grande dibattito vedo Stagliano forse ne parlerà lui comunque su quello che sarà il futuro del lavoro ad esempio ci sono due grosse linee da questo punto di vista c'è chi parla del fatto, c'è un grosso dibattito fra alcuni economisti che diranno che ad esempio 400 milioni di lavori verranno distrutti con l'avvento delle nuove tecnologie quindi l'automazione industriale sarà estremamente profonda e anche nei settori che adesso impiegano più persone ad esempio la logistica, il manufatturiero il lavoro sarà sostituito dalle macchine c'è invece un'altra prospettiva che è quella di David Graeber a cui voglio anche portare omaggio perché purtroppo è scomparso pochi giorni fa che ha scritto questo libro che si chiama Bullshit Jobs e lui dice che è vero che le tecnologie invece danno delle nuove possibilità quindi invece si creano nuove professioni, si creano nuovi lavori ma questi lavori sono lavoretti, sono lavoretti stupidi sono lavoretti che non hanno senso che ci in qualche modo mettono in una situazione di forte precarietà ma soprattutto con cui non riusciamo a dar senso alle nostre vite quindi lui li chiama Bullshit Jobs diciamo che la questione del futuro del lavoro dell'automazione del lavoro e su come società affrontiamo ci vedo anche parecchi giovani la questione di che tipo di diritti avremo nell'economia delle piattaforme io credo sia una questione centrale un altro punto molto importante da capire quando parliamo di questi colossi del digitale è che la ricchezza di queste imprese si bassa soprattutto su quelli che chiamiamo gli asseti materiali ovvero i dati e la proprietà intellettuale quindi non più le materie fisiche o le infrastrutture fisiche ma dati e proprietà intellettuale che succede che questi grossi colossi digitali sono quindi in grado di sfruttare i supply chain a livello globale per muoversi non solo da una parte all'altra del mondo quindi esternalizzando il lavoro e creando profitti ma anche muoversi da un settore all'altro in maniera rapidissima quindi abbiamo Google che fa il sistema operativo del nostro telefonino ma allo stesso tempo gestisce uno dei più grandi players in robotica lavora alle macchine senza guidatore quindi alle macchine che si guidano da sole entra nelle città questa è Sadwork Labs un'impresa che Google ha per gestire i dati dei cittadini nelle città oppure abbiamo Amazon che tutti conosciamo come e-commerce quindi come retailer che ci vende le cose online però in realtà sta diventando non solo gestisce i cloud quindi è la prima impresa nella gestione delle nuvole dei cloud dove noi mettiamo i nostri dati ma è anche il primo player mondiale nella sanità digitale e si apprestano in qualche modo anche a gestire i nostri ospedali dati sanitari e dati molto sensibili perché dico questo? perché io sono una politica si può dire e in qualche modo questo ci mette di fronte a delle grosse sfide ad esempio l'antitrust che cosa dobbiamo fare? dobbiamo spezzettare queste imprese perché stanno diventando troppo grosse vi ricordate con le banche? sono troppo grosse per fallire ci ritroveremo in una situazione in cui anche queste imprese possono essere troppo grosse per farle fallire la concorrenza come facciamo in modo che ad esempio anche in Europa o in una città come Modena, in Italia possano nascere imprese gestite da noi giovani start up o imprese innovative che possono fare concorrenza a questi giganti se non li regoliamo e un altro punto chiaramente come facciamo a pagare le tasse a queste imprese perché ok, volete investire in Europa però almeno i vostri ricavi vanno rinvestiti nell'economia locale e magari anche dopo la pandemia vorremmo rinvestirli ad esempio per migliorare la sanità pubblica, l'educazione rendere più verdi le nostre infrastrutture eccetera e al momento questo è molto difficile perché molte di queste imprese non pagano le tasse e quindi c'è un grosso dibattito a livello europeo su come fare ora, non vorrei essere troppo noiosa però vi vorrei dare due dati rispetto a quello che è la concentrazione di mercato attuale perché io la chiamo corporate monopoly power perché ritengo che nella storia non abbiamo mai avuto una tale concentrazione industriale come quella di cui ci troviamo di fronte oggi basta pensare che durante la pandemia la maggior parte delle imprese e lo vediamo nella nostra vita di tutti i giorni le piccole imprese ma non solo hanno avuto fortissime difficoltà a sopravvivere i GAFAM ovvero le grosse piattaforme Google, Microsoft, Amazon, Apple e l'equivalente cinese Baidu, Tencent, Huawei si sono arricchite dalla crisi cioè per loro è stato uno shock ma al contrario di tutti noi è stato uno shock positivo e oggi i GAFAM hanno un valore azionario di oltre 6 trilioni di US dollars questo che vuol dire che le azioni tecnologiche delle imprese statunitensi valgono più dell'intero mercato azionario europeo per la prima volta nella storia io sono rimasta abbastanza scioccata quando ho visto questi dati abbiamo un'impresa come Apple che vale 2 trilioni di dollari sul mercato bene la domanda è se 5 aziende perché più o meno di questo si tratta possiedono l'economia digitale può davvero funzionare per tutti noi? può dare migliorare le condizioni di lavoro? può dare più potere ai cittadini? può aiutarci a creare una società migliore? beh io credo che abbiamo comunque un problema di concentrazione industriale estremamente forte un'altra delle questioni a cui invito a riflettere in maniera diciamo più ampia è secondo me io vi ho parlato delle questioni economiche le questioni industriali le questioni dell'antitrust le politiche sul lavoro però in realtà secondo me il cuore del problema che abbiamo di fronte è la vera sfida democratica ovvero queste grosse istituzioni algoritmiche in qualche modo stanno sostituendo la sfera pubblica habermassiana che cosa significa? che oggi i social media tutte le applicazioni che usiamo intervengono nella nostra comunicazione fra noi e lo Stato la gestione dei nostri dati in tempi elettorali la profilazione che questi giganti fanno delle nostre vite attraverso l'aggregazione dei dati hanno un impatto veramente nella sfera democratica e attaccano in qualche modo quelli che sono le fondamenta dei valori europei cioè i nostri diritti fondamentali la privacy diciamo la questione sui diritti come base per regolare una società e quindi qua ci sono degli esempi perché questa concentrazione anche di queste piattaforme il problema è che nell'economia digitale il potere va a chi già ne ha tanto e questo che sta succedendo adesso che vediamo anche una crescita esponenziale dell'odio online le fake news attacchi razziali ad esempio durante la pandemia negli Stati Uniti abbiamo visto che nel movimento Black Lives Matters ha portato un forte dibattito pubblico perché questi algoritmi che la polizia americana utilizzava quindi questi sistemi di intelligenza artificiale avevano una forte discriminazione nei confronti delle persone di colore e quindi è stata fatta una forte campagna online e addirittura le grosse aziende si sono spaventate e hanno levato i soldi pubblicitari da queste piattaforme perché non volevano essere associati con questi meccanismi di forte discriminazione di genere, razziale, etica e diciamo qua ho fatto l'esempio di Cambridge Analytica ve lo ricordate tutti ora sono alle porte le elezioni americane c'è stato un grosso scandalo su come Cambridge Analytica ha utilizzato i nostri dati la profilazione su Facebook e altre piattaforme per diciamo manipolare il risultato delle elezioni faccio l'esempio anche su tutti i giornali di oggi il fatto che l'amministrazione americana e quindi Trump ha deciso di vietare due delle applicazioni cinesi più diffuse nel mondo quanti di voi usano TikTok ora non so quanti di voi usano WeChat ma sono applicazioni usate in tutto il mondo e ora in questa nuova dimensione geopolitica che è uno scontro di supremazia tecnologica fra i due giganti USA e Cina da una parte l'amministrazione americana ha vietato l'uso di queste applicazioni perché diciamo quello che viene detto è sicurezza nazionale che è una questione geopolitica che sicuramente c'è ma è anche competizione commerciale ovvero nel momento in cui delle applicazioni sviluppate da player cinesi vengono utilizzate in tutto il mondo diciamo che anche i giganti americani si sentono in qualche modo sfidati sul terreno della supremazia tecnologica e questo ha un grosso impatto e secondo me bisogna un po' ripartire da qui perché io credo che se l'Europa in qualche modo ha una potenzialità per ribaltare questa situazione che detta così potrebbe vederci come una colonia digitale fra qualche anno schiacciata a sandwich fra il modello di Silicon Valley da una parte e il modello del big state del capitalismo digitale cinese non è una situazione diciamo comoda non è una bella prospettiva del futuro e quindi l'Europa ha una potenzialità che è quella di dire ok la digitalizzazione nel senso che dobbiamo approfittare dare un'opportunità rendere questo digitale un'opportunità per molti e quindi farne una prospettiva di rilancio della nostra società ma non dobbiamo solo accelerarla dobbiamo dargli una direzione e in questo momento io credo sia estremamente attuale proprio perché abbiamo di fronte diciamo dopo la pandemia la possibilità di indirizzare le tecnologie verso la transizione ecologica verso più giustizia sociale e verso appunto un modello che è un patto verde digitale che è quello che ci sta proponendo l'Europa che è affrontare la transizione digitale con quella verde e utilizzare le nuove tecnologie per raggiungere la sostenibilità che è sia sociale che ambientale questo è un po' adesso il modello del famoso recovery plan la EU next generation che sarebbe ricostruire l'Europa per le nuove generazioni queste due sfide sono centrali e quindi dobbiamo renderci conto che per farne un elemento di futuro diciamo positivo dobbiamo in qualche modo riprendere la nostra sovranità digitale che cosa significa in qualche modo significa che noi come società siamo appunto in grado di indirizzare e quindi di dare una direzione al progresso tecnologico quindi non accontentarci di dire diventeremo una colonia digitale di accettare tutti i grossi problemi che di cui ho parlato prima ma vederle come delle grosse sfide su cui ricostruire una base che poi ha un modello diciamo di nuovo io lo chiamo sempre umanesimo digitale che combina appunto che mette la tecnologia come diritto quindi al servizio delle persone per poi andare a costruire dei modelli che sono i modelli di futuro che noi vogliamo in qualche modo costruire che quindi saranno più giusti sia socialmente che miglioreranno le condizioni di lavoro che creeranno delle città migliori una sanità pubblica dei nuovi modelli educativi e a mio avviso e qui vengo diciamo dopo questa grossa introduzione più di scenario io credo che nel caso europeo bisogna prendere molto seriamente il fatto che si può solo sperimentare questa diciamo democrazia digitale o questa nuova concezione di un digitale al servizio delle persone partendo dalle città e partendo dalle città significa partendo dai cittadini quindi in qualche modo vedendo le città come veramente credo un po' anche adesso chiaramente con la pandemia un po' tutti i nostri schemi sono stati un po' rivoluzionati ci siamo resi conto anche che vogliamo dei modelli di vita differenti che la sostenibilità ha un senso che si può ripensare anche il modello di vita come lavoriamo come andiamo a scuola quindi adesso la didattica a distanza se ne parla tanto ma che tipo di didattica a distanza come apprendiamo quali modelli educativi e io credo che in questo in questo momento le città possono essere viste veramente come un laboratorio di grande sperimentazione io veramente faccio politica ma lo faccio a partire dalla sperimentazione pratica secondo me bisogna sempre creare dei laboratori e questi laboratori sono le città in cui si può pensare quale è il modello di mobilità del futuro come vogliamo cambiare l'educazione e fare in modo che si vada in una direzione che è più sostenibile e più democratica e in questa fase in questo in questo momento le città infatti sono all'avanguardia sono all'avanguardia ad esempio della sperimentazione di tutte le politiche sul cambiamento climatico io quando facevo l'assessore a Barcellona coordinavo una rete di città in tutto il mondo questo si chiama C40 e sono centinaia di città che stanno scambiando politiche buone pratiche per rendere diciamo con un'ambiziosa politica climatica ed energetica per diventare città a emissioni zero alcune veramente entro il 2035 ad esempio questo è il piano di Helsinki o di Copenhagen e nel piano che abbiamo che è il piano diciamo europeo ci stiamo impegnando a diventare città ad emissioni zero entro il 2050 questo che cosa vuol dire che si vanno a cambiare i modelli di trasporto ad esempio avremo bisogno di un'amibilità integrata un'amibilità elettrica magari investire nell'idrogeno come futuro della mobilità fare in modo che si aumentano le piste ciclabili a volte anche levare le macchine dal centro delle città come molte città stanno facendo oppure ritornare ad un rapporto molto forte fra tecnologia e natura questo ad esempio è il progetto di Foresta Milano che è stato sviluppato da Boeri e Boeri dice dobbiamo riportare 3 milioni di alberi nella città quindi riforestizzare le città entro il 2030 perché in questo modo assorbono le emissioni di anidide carbonica migliorano la vita e c'è un progetto anche regionale per piantare nuovi alberi in tutto il territorio diciamo della provincia di Milano io ritengo anche che quando si parla di città intelligenti città del futuro prima cosa rifuggere dalla definizione di una smart city come una città tecnologica questo lo dirò lo spiegherò meglio tra poco ma anche evitare le fratture che ci possono essere fra città e campagna fra città e aria interna tra l'altro l'Italia è un paese di borghi di aria interna quindi qua vorrei citare Rem Kulas che è uno dei diciamo maggiori architetti nel mondo mio amico che ammiro molto e lui parla di smart countryside e abbiamo visto che quando le città non si mettono in collegamento con i borghi con le campagne possono creare nuove disuguaglianze e diventare anche elemento di forti conflitti sociali come abbiamo visto anche col movimento dei gilets jaunes in Francia quindi si può partire dalle città per reclamare un nuovo diritto alla città come diceva Harry Lefevre ma che sia un diritto anche alla città digitale che vada oltre il soluzionismo tecnologico prima è stato citato che io ho scritto un libro insieme ad Evgeni Morozov ripensare la smart city dove noi in qualche modo teorizziamo prima cosa smitizziamo chiaramente questo smart perché ora sembra che tutto è smart tutto deve diventare smart tra l'altro semmai smart sono i cittadini piuttosto che le città quindi anche lì bisogna sempre leggerlo in accezione di dare conoscenza e più potere ai cittadini ma in qualche modo si deve vedere la città intelligente come un processo democratico per cui si costruisce insieme la città del futuro e come si fa si fa a partire proprio dal dal processo di partecipazione con i cittadini questa era la mia ex sindaca Ada Colau mi fa piacere non so se tutti la conoscete però lei quando mi ha chiamato io stavo a Londra in quel momento lì a studiare per andare a fare l'assessore a Barcellona mi ha detto una cosa mi ha chiamato dal nulla veramente e mi ha detto la tua missione è mettere la tecnologia al servizio delle persone non voglio sentire parlare di tecnologia prima ma la smart city va spiegata a mia mamma mi ha detto che cosa significava per Ada Colau significava che invece di partire dai sensori la connettività il 5G la blockchain termini che magari alle persone non gli interessa cioè se usciamo e diciamo cosa è la blockchain la gente dice non lo so ma comunque non credo che migliorerà la mia vita invece partire dalle cose che interessano alle persone quindi il diritto alla casa la mobilità sostenibile la lotta al cambiamento climatico una scuola migliore il futuro del lavoro e poi spiegare come effettivamente un uso democratico della tecnologia e dati ci può aiutare a cambiare il modello di città e quindi a risolvere i problemi dei cittadini qua velocemente diciamo che ero anche molto fiera quando il Financial Times ha scritto un articolo questo era l'anno scorso in cui ha scritto ci sono due modelli nel mondo di smart city da una parte c'è la città di Google Google ha un progetto a Toronto Sidewalk Labs sta sperimentando ed è la città diciamo top down tecnocratica gestita da una grossa multinazionale in cui i dati dei cittadini verranno poi gestiti da una grossa impresa per rendere la vita più efficiente quindi molto poco democratico e l'altro modello è la città democratica ovvero Barcellona che invece inizia dai problemi dei cittadini parte dalle cose a cui le persone che stanno a cuore le persone e poi usa la tecnologia per migliorare la città quindi il modello diciamo Barcellona è people first quindi prima le persone che non è solo propaganda ma che nel caso di Barcellona è stato veramente un processo di partecipazione cittadina grandissimo forse uno dei più grandi al mondo io i primi sei mesi dopo che sono diventata assessore ho fatto solo questo con un processo ibrido di partecipazione sia sui territori quartiere per quartiere e poi con l'utilizzo di una piattaforma digitale che si chiama Desidin Barcelona che oggi è usata da 80 città nel mondo 20 paesi quindi ha avuto un grandissimo successo tra l'altro ci tengo a dire la democrazia digitale non è la Facebook democracy cioè quando vi dicono clicca qui e risolvi la democrazia clicca qui e questa è la partecipazione chiaramente va rifiutata questa visione perché la democrazia digitale è sempre un ibrido integra è una reale partecipazione delle persone quindi a partire da dove vivono dai territori e 400.000 cittadini hanno partecipato alla scrittura del programma della città di Barcellona lo sottolineo perché di solito non succede cioè decidono insomma tra pochi esperti eccetera e 70% delle proposte che sono diventate l'azione di governo della città sono venute direttamente dai cittadini e sottolineo anche che questa piattaforma è costruita con software libero è interoperabile i dati sono di proprietà dei cittadini e tutta l'infrastruttura è di proprietà dei cittadini della città di Barcellona alcuni dei progetti più importanti che abbiamo messo in campo a Barcellona sono come utilizzare la tecnologia per trasformare ecologicamente la città ad esempio la transizione energetica di cui ora si parla in moltissime città Barcellona si è dotata di un'impresa municipale per l'energia rinnovabile in Barcellona Energia e poi ha creato un sistema di grid digitale per gestire l'energia in maniera decentralizzata e abbiamo anche dato degli incentivi ai cittadini stessi per mettere i pannelli solari nei vari edifici privati 22.000 case in cui diciamo l'incentivo era per mettere il pannello solare e produrre energia che poi si connetteva con il grid della città di Barcellona e quindi si produce energia solare e rinnovabile che poi oggi diciamo in qualche modo illumina e crea l'energia per tutti gli edifici pubblici della città questo è un altro progetto di cui vado estremamente fiera che si chiama Barcellona Superiglia forse questo l'avete sentito parlare perché è stato riportato in molti giornali ed è il più grosso progetto di ripensamento diciamo urbanistico della città in cui abbiamo recuperato il 60% dello spazio pubblico togliendo le automobili dal centro di Barcellona oggi ci sono 16 quartieri della città dove le macchine non possono entrare ma possono solamente girarci attorno e questi nuovi spazi cittadini quindi questi nuovi spazi recuperati diciamo dall'automobile sono diventati spazi verdi spazi su cui ci sono nuovi business locali nuovi esercizi commerciali ridefinendo la mobilità urbana quindi appunto con una mobilità elettrica tutti gli autobus tutti i trasporti pubblici sono elettrici a Barcellona triplicato le piste ciclabili le bici eccetera eccetera e questo è un progetto che è stato implementato a Barcellona ma ad esempio la città di Parigi parla della città dei 15 minuti non so se avete sentito questa espressione ovvero devono essere dei quartieri autosostenibili per cui i cittadini possono fare in 15 minuti tutto quello di cui hanno bisogno io da romana chiaramente mi sembra il paradiso però è vero che la città di Parigi si sta ridefinendo attraverso questo concetto della città da 15 minuti e anche Madrid Copenaghen è molto all'avanguardia vi consiglio di guardare alcuni di questi progetti veramente sulla transizione energetica ed ecologica nelle città quando si fanno questi progetti diciamo anche all'avanguardia della pianificazione urbana si utilizza tantissima tecnologia quindi le infrastrutture la connettività i dati diventano un po' la materia prima di questa economia digitale e quindi noi abbiamo scommesso su qual è il modello di gestione dei dati i dati saranno controllati dalle piattaforme saranno controllati dagli stati oppure può esserci una terza via che è quella del controllo dei dati da parte dei cittadini ebbene noi abbiamo sperimentato un modello che va oltre quello che viene definito l'estrattivismo di dati questa chiaramente è una metafora che viene dal petrolio come l'estrazione di materie prime di idrocarburi in qualche modo le grosse imprese tecnologiche straggono questi dati che però sono come se ci in qualche modo perforassero l'anima in un certo senso perché i dati è vero che sono una materia prima ma sono anche la materia della nostra vita sociale sono quello che facciamo chi siamo i nostri comportamenti quindi è una materia prima particolare io a volte dico che dovremmo inventare l'economia politica dei diritti umani quando si parla di dati perché è qualcosa di profondamente diverso e quindi diciamo l'idea era quella come la professoressa Georgiana Zuboff di Harvard Business School che ha scritto un libro che se non avete letto vi consiglio di leggere The Age of Surveillance Capitalism l'età del capitalismo della sorveglianza lei dice appunto queste imprese creano profitti chiaramente con questi dati cioè i dati sono diventati la moneta e quindi continuano in qualche modo ad accumularli e l'idea è come passare da questo capitalismo della sorveglianza ad un modello per cui i dati diventano un bene comune quindi un'infrastruttura pubblica prima Cacciari mi diceva che fare questo andare contro gli imperi sarà estremamente difficile ma la mia risposta è stata sì ma possiamo sperimentare cioè è chiaro che ci saranno le grosse piattaforme gli imperi chiaramente socializzare i dati e quindi la materia prima di questa società non è facile ma se si parte dal basso con dei modelli sostenibili e delle sperimentazioni pratiche forse in qualche modo possiamo riuscirci e quindi diciamo ci siamo dotati anche di una politica digitale che ci ha fatto in modo poi di mettere in pratica questo modello e vi dico solamente un dettaglio su questo ad esempio in tutti i contratti pubblici lo so che sembra una parolaccia quando si parla di contrattazione pubblica ma in realtà è quello che fanno i politici cioè che fa il governo spende i soldi dei cittadini per fare degli appalti e comprare servizi o comprare tecnologia e noi abbiamo inserito nei contratti pubblici delle clausole che abbiamo chiamato tra l'altro non solo clausole abbiamo chiamato clausole di sovranità sui dati ci tengo a dire che c'erano anche clausole di genere clausole ambientali clausole sulle condizioni di lavoro e quindi salario minimo però avevamo anche delle clausole sulla sovranità dei dati che dicevano qualsiasi fornitore vince il contratto a Barcellona può essere per la gestione dei rifiuti per le nuove bici elettriche piuttosto che i dati del wifi i dati devono essere restituiti al comune di Barcellona in un formato machine readable cioè consumabile dalla macchina che vuol dire consumabile poi dagli algoritmi di intelligenza artificiale che poi noi possiamo utilizzare per prendere migliori decisioni migliorare i servizi pubblici e migliorare la città e questa cosa ci ha cambiato moltissimo perché sulla base di questa politica io ho costruito un nuovo ufficio municipale sui dati con 40 persone 40 persone dell'amministrazione pubblica con anche nuove competenze quindi anche giovani che usciti dall'università abbiamo assunto 65 nuove persone io questo lo dico perché a volte sembra ah questo è fantascienza no questi progetti si fanno ma chiaramente ti devi dotare delle competenze internamente e perché no rendere sexy le amministrazioni pubbliche che significa assumere giovani di talento che hanno nuove capacità e metterli al lavoro per appunto cambiare e quindi questo ti permette poi di utilizzare anche i dati aperti per pubblicare i dati di bilancio i dati sulla trasparenza così non ci può essere corruzione o comunque i cittadini possono vigilare che non ci sia corruzione nella amministrazione pubblica e poi ci siamo dotati dei famosi data lakes scusate il termine tecnico ma sono delle grosse diciamo basi di dati che sono interoperabili quindi i dati comunicano con un'ontologia comune e quindi i dati che vengono ad esempio dalla gestione urbana i dati dell'illuminazione i dati della città si integrano con gli altri dati questo è un grosso problema con le banche dati che si parlano per creare servizi innovativi e questo è il famoso internet delle cose cioè un'infrastruttura pervasiva di sensori nella città che ci permette poi di avere una intelligenza urbana noi siamo andati un po' oltre perché oltre a dotarci di queste infrastrutture abbiamo poi detto ok ma come ad esempio ristabilire un rapporto di fiducia con i cittadini cioè come spiegare ai cittadini che in realtà se condividono i dati con l'amministrazione pubblica ma ne mantengono il controllo ne possono trarre un vantaggio cioè se voi volete ad esempio condividere i dati della mobilità con il comune di Modena piuttosto che darli a Uber o piuttosto che darli ad una agenzia o ad una non lo so impresa di assicurazioni li condividete con la città mantenendo la privacy la sicurezza e quindi la criptografia e scegliete come condividerli ma condividendoli crea valore pubblico quindi sapete che se condividete i dati della mobilità la città ha più strumenti per migliorare i trasporti pubblici e quindi abbiamo scusate la parolaccia messo fatto questa applicazione che si basa sulla blockchain ovvero su una infrastruttura decentralizzata di dati che dà alle persone il controllo dei propri dati e questo io credo sia il modello del futuro perché non possiamo più permetterci che quelle 4 5 imprese hanno la gestione di tutto questo patrimonio di ricchezza ma dobbiamo condividerlo e quindi appunto metterlo a comune e poi anche aprirlo ad esempio alle start up locali alle imprese del territorio alle fondazioni ai cittadini ai giornalisti che poi possono utilizzare questi dati per appunto contribuire alla creazione di nuovo di nuovi servizi migliori oppure proprio questo chiaramente crea valore economico e questa questione dei cittadini che partecipano al processo di produzione tecnologica per noi è stato cioè estremamente importante perché la tecnologia è anche partecipazione civica ad esempio sulle politiche di transizione energetica noi abbiamo aiutati i cittadini a mettere dei sensori nelle proprie case perché si lamentavano dell'inquinamento e quindi abbiamo lavorato con questi gruppi di cittadini abbiamo messo i sensori per misurare come le politiche della città stavano migliorando la qualità dell'aria diminuendo l'inquinamento aiutando a rendere la città più vivibile e questi dati diciamo i cittadini potevano controllarli e poi integrati diciamo con l'infrastruttura di sensori della città riprendere il controllo democratico sui dati ci può anche aiutare a quella che io chiamo la regolazione algoritmica ovvero molte città si sono trovate davanti a queste piattaforme come Uber Airbnb e in realtà si sono trovate le città a regolare questi fenomeni perché chiaramente una piattaforma come Airbnb può dare dei vantaggi a chi riesce comunque a mettere sul mercato la propria casa ma crea molte distorsioni sul mercato ad esempio noi abbiamo visto che grazie agli affitti brevi di Airbnb in moltissime città europee il prezzo degli affitti è duplicato o triplicato quindi chiaramente le città si sono dovute mettere insieme noi avevamo un tavolo di lavoro con New York Berlino Barcellona in cui abbiamo detto ok magari da sole non riusciamo a gestire questo grosso fenomeno ma se ci mettiamo insieme creiamo un sindacato di città e in qualche modo possiamo regolare meglio questi fenomeni e una parte fondamentale non era solo ok bisogna pagare le tasse ci sono le regole a cui dovete sottostare come tutte le altre imprese ma anche ci servono i dati perché se non abbiamo i dati non sappiamo dove stanno aumentando gli affitti come perché come regolarli come fare in modo che le persone non vengono espulse dai centri perché non possono più permettersi di pagare l'affitto e quindi in qualche modo avere i dati significa anche regolare essere in grado di fare il proprio lavoro che è quello di fare politiche pubbliche che favoriscono tutti e stessa cosa per quanto riguarda Uber quindi credo questo tema l'aveva anche posto Angela Merkel adesso la commissaria Vestager dicendo la regolazione algoritmica la trasparenza dei dati e degli algoritmi inizia a diventare una questione centrale della maniera in cui si fa politica oggi e quindi insomma tutti questi progetti che vi ho raccontato il modello alla fine è percepire i dati come un'infrastruttura pubblica come un bene comune che poi può essere messa al servizio della città dei cittadini delle imprese e delle associazioni anche della società civile per creare valore e migliorare la città chiaramente questi progetti non hanno solo una funzione diciamo tecnologica come avete capito perché questi sono servizi che migliorano la mobilità regolano gli affitti l'educazione eccetera ma possono anche creare innovazione urbana ad esempio stanno nascendo nelle città moltissimi ecosistemi di innovazione anche con acceleratori di nuova generazione ad esempio qui a Modena c'è un tecnopolo molto avanzato la fondazione di Modena ha tantissimi progetti sia per le imprese innovative che per diciamo nuovi modelli economici che vanno nella direzione anche di favorire un'economia circolare e un'economia più sostenibile ad esempio questo era un progetto che si chiama diciamo che è un fab city cioè un prototipo di una città che era sovrana dal punto di vista di produzione energetico anche dal punto di vista del reciclaggio quindi estremamente circolare come si ricicla la plastica come si riciclano i materiali localmente e attraverso la tecnologia e il talento delle imprese locali si possono fare un sacco di esperimenti che ci portano nella direzione di capire i nuovi modelli le città sono anche veramente degli hub scientifici oggi basti pensare ad esempio alla rete di super computing qua in Emilia avete uno ma piove uno dei super computing più potenti d'Europa che è il Cineca e quindi si fa ad esempio ricerca quantistica il quantum computing e qui in Emilia avete la data valley ma la pioggia non me l'aspettavo però e quindi diciamo sono le città e le infrastrutture ad esempio appunto il quantum computing piuttosto che il super computing iniziano a diventare delle infrastrutture tecnologiche critiche che proprio hanno come centro le città e in cui in cui queste infrastrutture ad esempio di calcolo che sono veramente importanti nell'economia attuale possono anche essere messe al servizio appunto di modelli urbani quindi non solo ci immaginiamo ad esempio durante la pandemia gli scienziati hanno utilizzato le macchine di calcolo i super computing per fare ricerca sul virus per creare una nuova cura al virus hanno utilizzato moltissimo la tecnologia per aiutarci a uscire da questa crisi sanitaria ma queste infrastrutture possono anche essere messe al servizio di modelli urbani ad esempio a Barcellona c'è un hub della mobilità del futuro in cui ci sono 46 città con 15 paesi diversi 17 aziende e 18 centri di ricerca che si sono messi insieme proprio utilizzando questo tipo di utilizzando i dati ma utilizzando anche questo tipo di infrastrutture per ripensare il modello di mobilità e questo veramente penso che dalle città ci potremo aspettare le vere innovazioni che non sono solo le macchine che guidano da sole ma ripensare appunto una mobilità integrata una mobilità all'idrogeno dei sistemi di trasporto molto più integrati molto più accessibili anche per i cittadini e quindi fare molte ricerche ad esempio anche le ricerche sul 5G se non ci sono le città che in qualche modo poi possono sperimentare a che cosa serve avere questa nuova connettività queste infrastrutture di nuovissima generazione che possibilità ci dà le città sono in grado di metterlo a sistema metterlo a sperimentazione in quelle che sono le applicazioni di tutti i giorni quindi diciamo veramente vanno visti come i nuovi laboratori di innovazione che con la democrazia e quindi la partecipazione dei cittadini la scienza le infrastrutture e i dati diciamo socializzati possono creare nuovi modelli mi avvio verso la conclusione menzionando che e questo so che è un tema che è anche molto a cuore alla città di Modena la scienza la tecnologia la matematica e l'ingegneria vanno complementati da una prospettiva umanistica quindi qua quale meglio quale miglior luogo la filosofia l'arte le scienze sociali sono estremamente importanti per ripensare in maniera multidisciplinare quale deve essere l'applicazione di queste tecnologie e ad esempio in Europa esiste una rete che si chiama STARTS scienza tecnologia e arte che ora sta creando degli hub regionali di innovazione in cui gli scienziati o gli ingegneri o i tecnologi delle grosse imprese vengono messi in contatto lavorano insieme a degli artisti per un periodo di tempo durante delle residenze e poi insieme alle città mettono in campo delle nuove applicazioni per il futuro e io credo che questo sia il modello dove appunto questo nuovo umanesimo tecnologico europeo può andare e questo ad esempio è il premio che hanno dato a un progetto STARTS in cui i dati urbani per la pianificazione della città insieme alla partecipazione cittadina e all'arte hanno aiutato a ridefinire il modello urbanistico della città di Barcellona e questo è proprio il centro di Barcellona con la Rambla su Daveglia e diciamo che il fatto che c'erano degli artisti che visualizzavano i dati in forma innovativa e portavano una nuova prospettiva ha anche influenzato la forma di decisione stessa dei politici chiaramente non saremo in grado di implementare nulla delle cose di cui ho parlato se non investiamo in educazione in scuola in formazione e soprattutto se non rendiamo questa rivoluzione digitale femminista nel senso che abbiamo ancora un grossissimo problema di partecipazione delle donne in tutto quello che sono questi temi di scienza e tecnologia bisogna dare visibilità protagonismo alle donne in questi settori e soprattutto fare in modo dalle prime dal sistema educativo che le bambine proprio si cimentino in scienza e tecnologia e innovare le metodologie per fare in modo che questo avvenga perché bisogna superare assolutamente questo gap di genere e veramente mi sto avviando alle conclusioni dicendo che una delle cose anche molto importanti delle città sono le reti e le partnership a livello globale perché le città non lavorano mai quindi è questa cooperazione che dobbiamo un po' ritrovare questa è una delle grosse reti con 100 città che è un'alleanza per i diritti digitali dove queste idee sui diritti fondamentali il diritto alla privacy la democrazia digitale la partecipazione dei cittadini sono sperimentate con il supporto delle Nazioni Unite ed è uno dei progetti a cui io adesso sto lavorando concludo veramente dicendo che in questa fase e io vi ho portato dei progetti concreti sono partita proprio dal livello di prossimità dei cittadini e delle città ma in qualche modo l'ambizione attraverso una rete di città è di scalare questi modelli per rendere questo nuovo umanesimo digitale un progetto europeo questo perché come dicevo prima abbiamo una nuova mutata diciamo dimensione geopolitica c'è una nuova guerra fredda tecnologica in corso fra Stati Uniti e Cina e noi dobbiamo fra il modello del big state orvegliano di controllo cinese che magari è efficace ma non rispetta le nostre libertà e diritti fondamentali e l'altro modello di Silicon Valley che dà tantissimo potere alle piattaforme digitali che magari è efficiente nel breve periodo ma che sul lungo periodo ci ritroverà con un oligopolio che gestisce i trasporti la sanità la mobilità e tutta la nostra diciamo vita dobbiamo mettere in campo un nuovo modello che è quello europeo che io chiamo la big democracy ovvero un nuovo contratto sociale per l'era digitale che è la nostra terza via da praticare insieme e quindi è la sovranità digitale europea che significa che come società dobbiamo essere in grado di dare la direzione al progresso tecnologico mettere la tecnologia e i dati al servizio delle persone e della società e fare in modo che sia un diritto per tutti e non un privilegio per pochi grazie 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 grazie